siamo in compagnia di fabio vanini che ieri è stato vittima di un furto d'auto furto d'auto particolare perché all'interno della sua range rover si trovava anche il suo cane summer un bellissimo esemplare di bovaro del venese che vedete qui il suo cane ha appena partorito cinque cuccioli e ci racconti un po e questa è una storia di sé perché c'è stato un vero e proprio tam tam su facebook che ha in qualche modo permesso di risalire anche e di ritrovare il cane esatto dell'auto invece purtroppo l'auto non mi interessa niente l'importante da trovare lei che cresce in tre minuti ma rubato la macchina ma non mi interessa la macchina che lei mentre io sono entrato a prendere del calcio all'interno del massizzo l'hanno rubato la macchina poi fortunatamente su facebook trampe erano vari segnali uno e l'altro è stata vista dal mine l'hanno abbandonata dal mine è stata ritrovata dal mino che c'è me donna dai calapiacani e scendate levata prende la reclata importante averla trovata e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato al loro ritrovo la macchina pagherà l'assicurazione